Scavia la ricerca di materiale inquinante, forse anche radioattivo. Questo è il motivo dell'indagine condotta dagli agenti della squadra mobile della Questura dell'Aquila, guidati dal dottor Maurilio Grasso insieme agli agenti della forestale e dei vigili del fuoco, che sono all'interno dell'aeroporto dei Parchi per eseguire un decreto di ispezione emesso dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. Le ricerche, generate da una segnalazione, sarebbero incentrate sull'ipotesi di presunti sversamenti di materiale, anche radioattivo, all'interno dell'area dedita all'atterraggio e al decollo di aerei, nello specifico la testa di pista numero 17. Usufruendo infatti delle attrezzature e dei macchinari in dotazione ai vigili del fuoco, gli agenti della mobile e della forestale, su disposizione del sostituto procuratore Fabio Picuti, hanno perlustrato l'intera area oggetto di indagini. Prima di analizzare in maniera specifica il terreno ed effettuare quindi gli scavi nella testa di pista 17, gli agenti hanno perlustrato l'hangar dell'aeroporto, dove sono stati ritrovati dei fusti vuoti, ma con le etichette che segnalano la presenza di materiale da trattare con le cautele dovute alla radioattività. Tali contenitori sono risultati a norma di legge, in quanto la società che attualmente gestisce la struttura, la Xpress, guidata da Giuseppe Musarella, è specializzata nel trasporto di diversi materiali, tra i quali merci pericolose, DGR, magneti, liquidi esplosivi, sostanze infette, veleni, materiali radioattivi, combustibili, ed è quindi autorizzata al deposito di questa tipologia di contenitori, purché risultino privi di materiale, come quelli appunto rinvenuti negli hangar aeroportuali. Questo significa che fin quando i contenitori saranno vuoti, i fusti potranno essere depositati nell'hangar e se non venissero accertati sversamenti non si configurerebbe alcun reato. Secondo le prime indiscrezioni, a margine dell'attività sul campo della Polizia Giudiziaria, sarebbero stati emessi tre avvisi di garanzia che ipotizzerebbero reati di natura ambientale, ma sui destinatari permane il massimo riservo. La notizia sembrerebbe dare corpo ad una serie di rumors emersi nel corso del tempo, ma dei quali erano sempre mancati riscontri oggettivi. Ipotesi alimentate dalle attività della società che gestisce l'aeroporto dei parchi, che nel proprio oggetto sociale prevede il trasporto e lo stoccaggio di materiali pericolosi, sebbene al momento le ricerche non hanno portato alcun esito. L'iniziativa della Procura rimette al centro delle polemiche la gestione dello scalo aquilano, che faticosamente sta tentando di affermarsi come scalo commerciale.